Clima primaverile, molta gente in giro approfittando della bella giornata di sole. Campobasso si presenta così all'indomani della decisione del governo di chiudere tutte le scuole. Una decisione drastica che non ha precedenti e che è il segnale di una situazione non facile, ma che al momento viene vissuta con relativa tranquillità dalla gente. In giro i ragazzi che da oggi fino al 15 marzo resteranno a casa. Una vacanza del tutto inaspettata e accolta con comprensibile gioia, un po' meno dalle famiglie, soprattutto dei più piccoli che non hanno ancora l'autonomia necessaria per restare a casa da soli mentre i genitori sono al lavoro. In molti casi si fa ricorso alle babysitter per chi ha la fortuna di trovarle e di potersele permettere. In altri casi forse la stragrande maggioranza ci pensano i nonni arruolati fino a metà marzo. Intanto le attività commerciali si sono già organizzate per recepire le direttive contenute nel decreto del governo, guanti per gli addetti alle casse per evitare il contatto con il dinaro contante e il mantenimento delle distanze di sicurezza. Per il resto la città sta reagendo bene alle notizie poco rassicuranti che arrivano dal resto del paese. Anche i rifornimenti di materiale sanitario arrivano senza problemi nelle farmacie. Le richieste già da un po' che ci sono, anzi i disinfettanti mani adesso stanno iniziando ad arrivare. Quindi stiamo cercando noi come sempre di fare opera intanto di tranquillizzare le persone però anche di dire a tutte le persone che devono rispettare le normative che sono state imposte dal Ministero. Quindi non prendere tanto alla leggera le cose. Panico no, ma igiene sì. Quindi diciamo la cosa deve essere vissuta in questo senso. Non bisogna farsi prendere dall'ansia, non bisogna farsi prendere dallo stress, però bisogna cercare di fare le cose giuste. Quindi cercare di evitare di dare i baci, evitare di andare purtroppo in luoghi troppo affollati. Noi siamo fortunati perché abbiamo una regione in cui la densità abitativa è bassa. Quindi volendo possiamo fare una vita sociale tranquilla con un minimo di intelligenza. Nel senso che gli spazi da noi ci sono. C'è stata qualche richiesta un po' bizzarra, un po' particolare da parte dei clienti? Vabbè, le richieste bizzarre sono tante e ci sono sempre perché è normale che le persone giustamente si... Ecco, in questo momento mi dicono che è arrivato l'alcol, che per esempio è un'altra cosa che non si trova. Noi siamo riusciti ad averlo, quasi dico miracolosamente, perché era nell'area gialla e quindi non volevano spedirlo perché non riuscivano a far passare i convogli. Però diciamo che ne sono arrivate in buona quantità. Quindi anche questo può essere positivo perché le persone che vogliono disinfettare, che vogliono fare le cose di igiene, perché l'igiene, ripeto, ribatto e lo ridico, non voglio essere ripetitivo, bisogna stare un po' più attenti all'igiene. Insomma, tensione e buonsenso sicuramente sì, noi invece al panico e all'allarmismo.